Un segreto, ce lo dica. Non è possibile un giorno dichiararsi europeisti e il giorno dopo essere anti-europeisti, anti-sistema, anti-euro, anti-tutto e accendere fuochi. Ecco perché voglio ribadire qui che l'Italia, di cui teniamo ferma il fondamento costituzionale e la chiarezza della nostra posizione dentro questa Europa, è un Paese che giorno per giorno lavorerà per rafforzare questa istituzione, per renderla più vicina ai cittadini, non ai mercati, ai cittadini, ai loro bisogni e per questo vogliamo un'Europa più unita, più solidale e più sociale. Ma questo lo facciamo ogni giorno con coerenza, come altre forze politiche d'Italia, ma non come quelle che un giorno abbattono il sistema e il giorno dopo dicono di volerlo costruire. No, con quelli non andremo avanti, né in Europa né in Italia. Grazie. Grazie, Presidente. Caro Primo Ministro, vorrei congratularmi con lei e con Lussemburgo per questo approccio estremamente costruttivo.